C'è un suono molto particolare, particolarmente utilizzato nella musica da film e da trailer che è molto caratteristico e molto usato, e sto parlando del famoso Sostanzialmente inventato da Hans Zimmer nel film Inception È davvero molto semplice da realizzare, chiaramente personalizzabile tuttavia potete partire da una base del genere Corny Ancora corny Ancora corny Tromboni Tuba Ora percussioni acute Percussioni gravi E ora una cassa in sub E ora tutto il resto Seguitemi per altri consigli di orchestrazione Grazie a tutti